Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 a causa di un incidente, un chilometro di coda in direzione Bologna tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla FIPILI per lavori, un chilometro di coda tra Santa Croce e Montopoli-Valdarno in direzione Mare. E sempre per lavori, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Ginestra e Montelupo-Fiorentino. Chiusa l'uscita di Montelupo-Fiorentino provenendo da Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti. I treni, ricordiamo che fino al 2 settembre per lavori di potenziamento la linea Bologna-Prato è interrotta tra Prato e Pianoro. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!